Salve a tutti amici, trezzanti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mistlectric e da oggi ragazzi eccoci qui in un nuovissimo video update di Cookie Run Kingdom in particolar modo ragazzi l'update del 18 aprile 2022 abbiamo fatto questo update a Pasquetta, o meglio il lunedì dell'angelo, se vogliamo essere più precisi ecco un update che in realtà ragazzi io personalmente non mi aspettavo, pensavo di appunto vedere il prossimo update direttamente il 3 maggio ovvero quando il grande update della giunta di Dark Kakao sarà terminato però ragazzi meglio così è un update prettamente primaverile e infatti ragazzi quest'oggi hanno aggiunto un nuovo biscotto ovvero Cherry Blossom Cookie un biscotto che in realtà già conosciamo perché è proveniente da Cookie Run Open Break che ragazzi è un biscotto carino alla fine non so se è un biscotto filler messo così giusto per però ragazzi sembrerebbe essere davvero molto carino come starete sicuramente notando in questo periodo sul canale i video scarseggiano se non praticamente questo è il video che carico dopo due settimane questo ragazzi principalmente per il fatto che sono nel pieno del periodo degli esami e quindi cercherò in tutti i modi di comunque rimanere al passo con eventuali aggiornamenti di Cookie Run Kingdom a breve uscirà un nuovo video anche di Alchemy Stars perché ragazzi probabilmente ci saranno dei personaggi molto interessanti da pullare e in più ragazzi sugli update di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto perché entro fine aprile dovrebbero rilasciare un nuovo trailer con tante nuove informazioni detto questo come potete ben vedere il villaggio non è stato ancora aggiornato ma penso che con questo update lo farò perché ragazzi in questo update oltre ad aver aggiunto nuovo biscotto e anche ovviamente nuovi piccoli eventi hanno aggiunto la possibilità di poter gestire meglio il nostro villaggio cioè appunto ragazzi andando qui nella sezione Layout noi possiamo praticamente creare diversi preset e avere quindi la possibilità di fare diversi villaggi sempre sullo stesso profilo praticamente questo è un update che in realtà aspettavo da tanto tempo perché a me piace veramente tanto la componente gestionale e soprattutto la componente di decorazione e come potete ben vedere abbiamo la possibilità io già ne ho salvato uno di preset per il mio villaggio base abbiamo la possibilità di salvare più preset e addirittura aggiungerne degli alcuni con 1500 diamanti e 8 di Aurora Pillar inoltre hanno reso la visualizzazione di tutti gli oggetti che abbiamo acquistato in maniera un po' più globale infatti qua possiamo vedere tutti gli oggetti che abbiamo e addirittura poter mettere gli oggetti come preferiti una cosa molto carina che in realtà non è essenziale infatti questo è un update principalmente per migliorare la quality of life rispetto allo scorso update ragazzi la stagione non è ancora cambiata dovrebbe cambiare questo mercoledì e ragazzi c'è un oggetto veramente molto figo una statua e io impazzisco per le statue ovvero questa qui la Twin Dragon Memorial Statue è una statua e quindi è stupenda io per ora ragazzi sono a Master 3 a 2379 trofei hanno aggiunto la possibilità di avere un secondo dock per quanto riguarda il Tux Trade Harbor solamente che però questo dock ragazzi si sblocca sta upgradando il castello a livello 12 io non ho ancora il castello a livello 12 quindi non lo posso fare lo possiamo sbloccare con 5000 Rainbow Pearl l'unica cosa ragazzi è ovviamente conservarsi tanti oggetti per poi mandarli sulla nave però comunque ragazzi avremo il doppio dei premi al giorno e inoltre hanno ridotto il tempo di ricarica del Rainbow Shell Gallery a 2 giorni non più 3 è tanta roba infatti qui mi si è aggiornato e fra 4 ore mi si riaggiorna e possiamo comprare appunto le Shard di in questo caso a me è uscito Siferi ma dei leggendari ecco il prossimo update dovremmo vedere l'aggiunta del terzo leggendario nel gioco prima di vedere i vari eventi vediamo un po' il nuovo biscotto ovvero Cherry Blossom Cookie di realità e ragazzi è un ambush non me l'aspettavo dall'animazione sembrava essere un bomber o addirittura un magico e in realtà è un ambush era da un bel po' che non mettevano un ambush in un banner dedicato se non sbaglio proprio da Sorbet Cookie quindi ci sta in realtà ed ha un'abilità davvero basilare cioè non troppo complicata e praticamente che cosa fa? tieniti pronto per una tempesta di Cherry Blossom che sarebbero appunto i petali degli alberi delle foglie di ciliegio praticamente Cherry Blossom Cookie flies up quindi praticamente vola si innazza in cielo per inondare i suoi nemici con una pioggia di Cherry Blossom facendo appunto danno ad aria quindi è un ambush che fa donna ad aria praticamente proprio come Sorbet solo che però Sorbet deve avere la linearità dei biscotti cioè devono essere allineati per poi fare danno a linea invece in questo caso no Cherry Blossom fa danno ad aria appunto farà danno addizionale ai nemici che non sono biscotti quindi buono per il PVE e incrementa l'attacco di tutti gli alleati molto simpatica come cosa mi ricorda un pochetto l'abilità di Sonic Cookie il bonus dell'attacco dipenderà dal numero di nemici che sono stati colpiti con la sua skill e il danno a singolo colpo è del 48,3% un'abilità davvero molto semplice molto carina ma sono abbastanza sicuro che non verrà utilizzato in PVP perché ci sono biscotti nettamente più forti di lei hanno aggiunto ragazzi tre nuovi bond molto importante come cosa e vi conviene ragazzi farli bond perché vi danno veramente tanti upgrade ovvero questi tre che vedete il Bombs e Cherry Blossom Rise and Cake Incident e Greedy Dragon hanno finalmente aggiunto nuove skin ed è l'update di Cocoa che non aggiungevano nuove skin al gioco e io infatti proprio da allora tengo veramente tantissimi Rainbow Cubes e dopo proveremo a trovare qualche skin magari epica hanno aggiunto la skin di Cherry Blossom Cookie molto carina la skin di Cotton che spero di trovare perché è una delle mie preferite è diventata una delle mie preferite la skin ancora epica di Parfait una nuova skin di Devil Cookie un'altra skin per Carrot Cookie e anche quest'altra rara di Poison Mushroom Cookie ah no ok mi ero dimenticato la skin comune di Avocado e sono sicuro che questa dove la troveremo eh ok ragazzi allora passiamo con i due nuovi eventi che hanno aggiunto uno legato all'altro prima di tutto ragazzi Spring Picnic Dice è un evento in cui ci sono tante belle missioni che possiamo ripetere all'infinito e completando queste missioni possiamo avere appunto questi oggetti che sarebbero i Blooming Picnic Dice sarebbero veramente dei veri e propri dadi noi riscattiamoli giusto per cioè giusto per in realtà lo devo fare e questi Picnic Dice possono essere utilizzati in un altro evento ovvero Spring Picnic dove noi praticamente come se stessimo facendo il gioco dell'oca cioè noi lanciamo il dado con dieci di questi oggetti vediamo quanto esce ovviamente non sarò mai fortunato oddio in realtà sono andato sopra vabbè come avete visto ci sono alcune caselle che vi permetteranno di salire ancora più in alto come proprio il gioco dell'oca in realtà ah non il gioco dell'oca come quel gioco del serpente là non mi viene in mente non mi ricordo il nome e praticamente ragazzi dobbiamo andare avanti fino a quando non raggiungeremo il traguardo e nel frattempo noi possiamo ottenere questi petali questi petali ci servono per comprare le nuove decors esclusive per questa stagione quindi dopo i 14 giorni ovvero quando finisce questo evento non saranno più reperibili se non l'anno prossimo al nuovo update primaverile alla fine ragazzi usiamo tutti quanti questi e addirittura 6 e addirittura quindi otterrò uno di quei blocchi esatto no ancora addirittura sopra vabbè perfetto 5 1 2 3 4 5 oh ragazzi non stiamo andando su nessuna casella che tiene un premio 1 perfetto l'ho detto ma 5 cosi qua time jumper non mi interessano 6 meglio cioè in realtà è buono ok abbiamo usato tutti quanti i nostri tiri e ragazzi che cosa succede una volta che noi arriviamo al traguardo che sarebbe la sessantesima casella completeremo un giro e in base a quanti giri completeremo otteniamo i premi che vedete qui a destra tra cui ragazzi 500 light of resolution spero con tutto il cuore che fra qualche giorno mettano l'evento della stamina and jelly mission perché ragazzi siamo vicinissimi o almeno io sono vicino visto che ho completato quasi tutte quante le missioni infatti mi mancano solo queste ma sicuramente le completerò sono praticamente ragazzi vicinissimo mancano 70 pull però così facendo arriveremo circa 210 pull su 250 quindi se dovessero aggiungere lo stamina and jelly mission quindi darci delle light of resolution in più potremmo avere il nostro dark cacao garantito la vedo veramente complicata però forse è fattibile e inoltre ragazzi completando 12 giri oltre ad avere 1000 rainbow cubes che male non sono possiamo avere appunto una nuova decors ovvero lo spring bouquet track che è molto carino infatti le nuove decors si trovano nella sezione springtime blossom picnic party sono questi gli oggetti che si possono ottenere e sono acquistabili con i sugar blossom petals e ragazzi ho notato che se ne ottengono veramente pochi quindi non lo so se io riuscirò ad ottenerli tutti ma essendo esclusivi proverò ad ottenere quelli che più mi attirano togliendo magari lo spring bouquet track visto che lo potremmo avere gratis ma ragazzi direi che è arrivato il momento di iniziare a pullare per cherry blossom cookie inizieremo appunto da le formine normali per poi passare appunto ai costumi ho 22.100 rainbow cubes spero di ottenere le nuove skin o almeno qualche skin epica visto che con le skin sono veramente sfigato ok ragazzi iniziamo le pull sperando di però non lo volevo qual'epico vabbè vediamo chi è devo fare le pull sull'altro ho capito queste le riservo alla fine perché magari tutta la fortuna viene impregnata qui in queste pull vediamo un po' chi è dark cacao magari giusto per no però va bene va bene nuovo vediamo anche l'animazione cherry blossom cookie subito proprio al primo colpo ma tanto il gioco fa sempre così ha capito che le prime pull me lo fa ottenere poi mi devi far bestemmiare per avere gli altri però ragazzi io credo che mi fermerò alle due stelle per cherry blossom cookie perché non la vedo fortissima ecco quindi non voglio sprecare tante risorse visto che comunque ho poche gemme e addirittura milk va bene ragazzi fra 15 giorni c'è il prossimo update quindi nuovo biscotto pullabile quindi voglio un attimo tenermi calmo però facciamo un attimo le pull per ovviamente provare a portarla a due stelle qua non c'è niente perfetto ottimo così però trash shard iniziamo ragazzi iniziamo spero di di non spregare troppe risorse sono sincero vediamo solamente quanti epici ci sono uno solo ok di solito quando c'è custard e clover la percentuale di poter trovare il biscotto nuovo esclusivo del banner è sempre maggiore nel mio caso non è mai stato così cioè è stato veramente poche volte così vai dai 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 appunto cioè vedete quello è il fatto che non ho capito se ho buggato o se sono buggate i rate up a me però non lo so epico per noi vediamo un po' chi è pestri poi dite che uno non deve no non deve raga che vi devo di che vi devo di lo stiamo portando una stella a botta di shard ve l'ho detto cioè è strano ok qua non c'è niente siamo a 15 shard intanto epico per noi vediamo un po' uno solo almeno dammi caramellarro mi dà affogato me lo dammo quando due banner fa non l'ho trovato mai vabbè ce l'abbiamo a 3 stelle casissimo ce l'abbiamo quasi a 3 stelle vabbè andiamo avanti che vi devo di eccolo qua di nuovo io schippo io schippo ecco qua l'epico dai che cazzo e dai cioè che probabilità c'è di trovare un biscotto pestri poi due volte ok che lo porto a 4 stelle e mi va bene ma non ha senso per niente e per questo dico che secondo me ho buggato i rate up intanto ho trovato una shard di holly berry ma va bene senti schippo niente non è possibile non è altamente possibile ok che lo abbiamo a 2 stelle ad una stella però non l'ho capito ragazzi io mi fermo a 130.000 poi non vado avanti non vado avanti perché basta ho 100 summon ho fatto qui non c'è proprio niente con tutto il cuore però sta sfiga no eh ok qua ci sta una volta poi ti dai la shard cocoa cocoa ma perché io allora io veramente io va bene due stelle per noi e murrabbit vabbè raga l'ultima pull perché non posso andare avanti se sto così sfigato cioè il fatto che gli epici mi stanno uscendo ma non quello ma poi quello che dico non è che lo vole lo vorrei perché ah ok perfetto almeno quello che dico non è perché lo voglio perché è forte no ma almeno dammele è in rate up non l'ho capito ma mi sta accadendo così da troppo tempo tranne per caramellaro che siamo andati abbastanza bene però vabbè ok ragazzi primo biscotto siamo a 43 su 20 non continuo anzi faccio giusto queste altre 10 magari lo troviamo di qua ok perfetto schippiamo niente va bene non continuo ragazzi perché sono stato veramente tanto sfigato e sincero se sto biscotto non è buono io spreco inutilmente risorse comunque promuoviamola ad una stella volevo portare almeno due stelle no io devo dire a sto punto di portare a 5 stelle perché secondo me il gioco capisce che lo voglio portare a 5 stelle e me lo da 4 stelle devo fare così dai ho capito promuoviamo cocoa che pian piano poi sicuramente la porteremo a 5 stelle ed è buona per il nuovo bond che hanno messo quindi ottimo così pesteri la stessa cosa per un bond quindi va bene fortunatamente mi hanno dato biscotti anche prima ad esempio moon rabbit che comunque fanno parte di bond facciamo una cosa allora essendo che i treasure sono sempre ben accetti andiamo di 153 ok treasure ticket siamo a 170 vediamo un po' cosa troviamo magari effettivamente possiamo trovare delle pilgrim che portare al level 11 non è male perfetto una pilgrim beh perché no direi anche andiamo con le prossime 2 2 pilgrim va bene l'ho voluto fare in video giusto così anche per completezza e se non abbiamo trovato niente 2 solamente 2 cherry blossom cookie nel suo gacha dedicato ho paura per le skin raro c'è un raro e quindi va bene già mi va bene perché come ben sapete le poke pool che ho fatto di skin 3 di queste poke pool o 4 addirittura erano tutte comuni quindi già che c'è il raro va bene ce ne sono 2 magari possiamo trovare 2 dei nuovi d'altronde ok abbiamo trovato wizard cookie che non abbiamo licorice che abbiamo e ovviamente anche snow sugar che abbiamo mica nuove skin no ovviamente no continuiamo epico no perfetto è normale io pretendo di avere delle skin epiche ma quando mai abbiamo da 1000 nuove pancake che ho knight che ho strawberry che ho nuova skin di mushroom cookie quella che meno preferisco è princess cookie che vabbè continuiamo signori continuiamo raro perfetto perché è giusto che sia così addirittura epico attenzione questo gioco mi sorprende un epico vabbè ci sta in realtà ok skin comune la nuova cioè la nuova la skin di lilac la skin di angel cookie che orribile cotton holy berry ok ok non è tra le nuove skin però è nuova per me quindi va bene in realtà her majesty's grand presence va bene e ragazzi ci sta continuiamo queste ragazzi sono tutte comuni io mi gioco quello che volete sono tutte comuni tutte ok meno male meno male almeno una rara addirittura tre rare vabbè a cazzo di cane raga ho capito nuova skin di avocado molto carina in realtà bella la skin di cream puff licorice e squid ink ok ragazzi continuiamo stiamo andando raro posso avere la bella visione di avere i vestiti per l'epico fuori alla vetrina no è manco per il cazzo la skin di herb molto carina la skin di herb e la skin di di quella raspberry cookie va bene ragazzi 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 è incredibile come cosa un epico cioè come cazzo è possibile sta cosa ragazzi come è possibile continuiamo allora ragazzi continuiamo io ho questo presentimento cioè di essere veramente sfigato a merda con le skin io ho paura quando metteranno la nuova skin di carrot oppure quando metteranno poi le skin leggendarie perché si ragazzi ci sono anche skin leggendarie paura ho tanta paura se non trovo le epiche oh finalmente ok dammene due e va bene così e va bene così perché voglio quella di cotton quella di cotton o addirittura agli albori quella di di strawberry crepe visto che è una delle mie preferite magari quelle tutte e due due una e vabbè è giusto mica non devo pretendere troppo non devo pretendere troppo ok mi ha sentito ed è quella di strawberry crepe ok non ce l'avevo ragazzi perché ovviamente la mia fortuna non è che mi fa ottenere le cose in tempo ma l'importante è averla e raga è bellissima come skin è veramente molto bella non è tra le nuove ma va bene così va bene così ragazzi facciamo l'ultima mi sento me la sento fortunata perfetto 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 va bene la nuova di devil cookie e la nuova oh che bella questa di mango ok vabbè ragazzi io mi fermo qua perché comunque probabilmente metteranno altre skin in futuro quindi potremmo avere quelle eccetera e ragazzi ne abbiamo 50 su 74 cioè abbiamo praticamente tutte quasi tutte quelle là comuni e rare delle epiche ce ne mancano tutte tutte è incredibile è incredibile ma ragazzi quindi cosa dire io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto il prossimo update ragazzi sarà il big update dove probabilmente ragazzi metteranno un nuovo biscotto leggendario la cosa di fare un grande update dove mettono un biscotto ancient barra leggendario e poi nel frattempo magari fare altri piccoli update come è successo in questo periodo con caramel arrow cookie e appunto cherry blossom cookie se dovessero prendere questa iniziativa nel fare gli update in questo modo secondo me è un buon modo per prendere l'iniziativa per i prossimi update quindi ragazzi cosa dire spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto se così è stato ragazzi sapete cosa fare lasciate tantissimo pollice in su commentate condividete ci vediamo in un prossimo video attivate la campanella per i medi aggiornati appunto sui feed di video seguitemi in community per i medi giornati sulla programmazione iscrivetevi se non avete ancora fatto e così direi ragazzi arrivederci a presto